Poche reti, 13 in totale, ben 8 tra l'altro concentrate in due sole gare. Niente gol invece nella sfida più attesa della ventesima giornata di eccellenza, quella giocata al capozza tra Casarano e Barletta. Le emozioni però non mancano, soprattutto nella ripresa, quando la capolista del principale campionato dilettantistico pugliese resta in 10 uomini per il rosso diretto, ai danni di Rescio, uno dei tanti ex della partita. Nonostante l'inferiorità numerica però è la prima della classe ad avere la migliore occasione, ma Sansonna è sontuoso nella replica a diritto. Altro ex, gli ospiti vanno a segno con Tellera, ma la segnalazione di fuorigioco annulla tutto, mentre il nuovo entrato Scialpi su punizione sfiora il colpaccio nel finale e 0-0 al triplice fischio morale della favola. Casarano sempre primo e mai sconfitto in casa, Barletta al quindicesimo risultato utile di fila, che conserva la miglior difesa del girone e l'imbattibilità esterna. Resta a meno 6 dalla vetta il Brindisi bloccato sabato al Fanuzzi da un Coriaceo-Bieste, sempre in corsa per i play-off. Niente reti, anche nell'altro anticipo, quello giocato sul neutro di Torito tra Forti-Saltamura e Corato, due delle squadre più in forma del momento. Ci pensa Negro in pieno recupero invece ad evitare un altro 0-0. Il suo acuto permette alla Vigortrani di battere in trasferta il Terlizzi. Sapevamo delle difficoltà, probabilmente non ci aspettavamo questa partita così ostica, così difficile. Però bisogna mettere in preventivo anche questo tipo di prestazioni, data, ripeto, la giovane età della mia squadra. Non meritavamo questa sconfitta. Nella seconda frazione di gioco abbiamo avuto più occasione del Trani. Loro in rosa hanno gente che fa la differenza e quindi un tiro in porta al secondo tempo. Hanno fatto gol al novantesimo, hanno vinto la partita. Tanti gol solo al Paolo Poli e 2-2 tra Molfetta Sportiva e Dottranto e ad Avetrana dove il Molfetta Calcio torna a vincere anche in trasferta. E 4-0 ai Tarantini. Nella domenica dell'esordio come allenatore e giocatore di Renato Bartoli. E ancora il Mesagne batte 2-1 l'Unione Calcio Bisceglie nello scontro diretto in chiave salvezza. Mentre il Gallipo gli espugna con un gol Sansevero e torna a sperare nei play-off. Giovedì infine c'è gara 1 della finale d'andata di Coppa Italia di Lettanti. Corato e Casarano si sfidano al degli Ulivi a partire dagli ore 18.30. Il ritorno invece si giocherà al Capozza il 14 febbraio.